Di sua sorrisi e di sua sorrinoe a Sulmona si apre un altro caso politico perché quei paletti montati ieri in piazza del Carmine in via Mazzara volti a contrastare la sosta selvaggia hanno colto risorprese esercenti e residenti del centro storico ma anche qualche amministratore di palazzo San Francesco. Eppure il progetto di riqualificazione del centro storico che arriva all'ultimo step è stato letto, analizzato, approvato ma come al solito si cade dalle nuvole. I lavori in corso video incominciati lo scorso anno lungo il tratto piazza 20 settembre piazza del Carmine stanno interessando ora la zona della fontana del vecchio e prevedono l'installazione dei dissuasori in piazza del Carmine in via Mazzara sulla stessa lunghezza d'onda di quanto avvenuto in via Marselli e via Dorrucci. L'obiettivo è quello di concedere respiro e luoghi monumentali e di culto per puntare anche su una degna accoglienza turistica. L'ex vice sindaco Nicola Angelucci su questo punto era stato chiaro. I commercianti della zona non sono convinti che dissuasori modificheranno le abitudini dei sulmonesi. C'è chi parcheggia da un lato ad esempio senza tener conto della viabilità rischiando di intralciare il traffico. A porsi ritraverso l'operazione come avvenuto per il bando sulla riflessione scolastica sono i tre consiglieri DEM con in testa l'ex sindaco Bruno Di Masci che questa mattina si è recato in comune. Ho chiesto di far rimuovere dissuasori individuare soluzioni alternative. Sono paletti che non solo tolgono i parcheggi ma mal si conciliano con l'armonia del centro storico. In calza il consigliere comunale e anche sui dissuasori si apre il caso politico. La proposta ora al vaglio degli uffici comunali mentre gli amministratori dovranno decidere il da farsi. Del caso se ne sta occupando anche l'assessore comunale e i lavori pubblici. Mauro Tirimacco.